ben trovati all'oroscopo di sabato 15 maggio si festeggia san torquato il sole sorge alle 4 50 e tramonta alle 19 e 23 e adesso seguiamo l'oroscopo del giorno ariete il favore degli astri vi spinge a inserirvi con vera gioia in nuovi ambienti ad ampliare il giro delle amicizie e a fare nuove conoscenze non siete mai stati così dinamici ed impegnati come in questo momento toro miglioramenti e soddisfazioni professionali sono in vista e le vaghe promesse che vi sono state fatte hanno un'alta percentuale di essere mantenute chi fra voi aspetta cambiamenti sostanziali potrebbe non essere deluso gemelli per quanti tra voi si sono da poco innamorati la giornata ha tesori di tenerezza affetto dolcezza reciproca attrazione fisica e grande affidatamento se durasse così per tutta la vita sareste decisamente i più felici del mondo cancro le vacanze sono ormai vicinissime quindi rimandare la decisione di dovere trascorrerle non è indicato pena prezzi più cari e alloggi di difficile reperibilità fate al più presto un necessario consiglio di famiglia a questo proposito leone senso di partecipazione capacità induttiva e rapidità nelle deduzioni vi aiutano ad arrivare ben prima degli altri a identificare un possibile problema prima ancora che si presenti e a sistemare le cose nella maniera più giusta vergine un grande pericolo vi sovrasta quello di innamorarvi di una persona conosciuta da poco se non avete paura di un sentimento totale coinvolgente esaltante e magnifico ma anche problematico e complicato fate pure bilancia l'impossibilità di capirvi perché ognuno di voi due resta sulle sue posizioni rende il litigio attuale che vi vede contrapposti al partner più grave di quello che in effetti non sia vi pare davvero il caso di impuntarsi ogni tanto concedete un po di tregua scorpione riuscirete a stabilire ponti di intesa e di possibilità d'ottima collaborazione con un collega con il quale in precedenza non legavate affatto ammetterete che avete avuto torto nel giudicare di primo acchito questa persona sagittario non negate un favore ad un amico che si arrabbatta in guai davvero seri e che senza il vostro fattivo contributo potrebbe andare incontro a conseguenze molto negative anche se questo potesse costarvi qualche rinunzia va la pena essere fatto in capricorno oggi le stelle vi recano sicurezza nei vostri mezzi espressivi pienezza di energie capacità di vedere lontano e grande positivissimo ottimismo insomma non ci sono guai in grado di intimidirvi e di mettervi in minoranza acquario sole e venere vi suggeriscono la possibilità che un legame diventi un grande amore il saturno vi regala costanza e concretezza anche nei sentimenti i legami nati negli ultimi periodi hanno numerose possibilità di durare pesci giove vi invita alla prudenza vi sprona a non essere così cordiali nei rapporti sociali come in precedenza vi invita a non fare confidenze a chi non conoscete e a non parlare dei fatti che vi riguardano con amicizie superficiali grazie a tutti